Eccolo lì, avete già riconosciuto Alberto Angela. Ciao Alberto, bentornato alle parole. Ciao Alberto. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a te Massimo, a Roberto Vecchioni e anche a Serena Dandini che saluto caramente. Anch'io è tanto che non ci vediamo, almeno virtualmente. Alberto, raccontaci il perché hai scelto questa canzone innanzitutto, come mai? Beh, innanzitutto l'avete sentito, c'è uno swing incredibile, Frank Sinatra, una voce pazzesca, ma soprattutto la leggo alle missioni Apollo, anzi era diventata la colonna sonora raccontata proprio dagli stessi astronauti dell'Apollo 11 che è andata sulla Luna. E per me quella canzone rievoca tante cose, anche quegli anni, certamente io ero piccolino, chiaramente, però la speranza, la speranza in un futuro, la speranza di essere tutti uniti e raggiungere un obiettivo. Credo che ancora oggi, noi abbiamo tra l'altro dedicato una puntata allo sbarco sulla Luna e devo dire che questa atmosfera di speranza è molto importante, soprattutto in questo periodo. Eh sì, direi che sei molto perso. Vedi come siamo affinità, affinità. Siamo tutti ottimisti, tutti ottimisti. No, no, però è vero che in quegli anni lì guardavamo... Ma più il momento è duro e più bisogna essere ottimisti. Bisogna guardare il cielo. Parlaci di questa canzone. Alzare gli occhi. Hai come solito un minuto, anche un po' meno. Facciamo 40 secondi. Beh, intanto il titolo non è questo. Come non è questo? L'autore si chiama Bartoward e la scrisse nel 54... Bartoward era uno squattrinato cabarettista. Un giorno gli dicono scrivi una canzone per una tal felice, a lui ci mette un quarto d'ora anche se... Un quarto d'ora, dai. Un quarto d'ora, una storia. Un quarto d'ora. A scriverla e la chiama in un altro modo. In other things, in altre parole. In altre parole. Che c'è nel testo, tra l'altro. Che tra l'altro c'è, alla fine. In altre parole, alla fine. E questa canzone la cantano in tanti prima di Sinatra. Moltissime persone. Il primo è Johnny Mattis, grande cantante americano. Sinatra arriva tardissimo a cantarla. E la cambia, perché la canzone era in tre quarti, era un waltzer. E lui la fa swing, come dice giustamente Angela. La fa swing. E dopo di lui, dopo Sinatra, arrivano tanti altri a cantarla. Per esempio Lady Gaga l'ha cantata, Bocelli, Nat King Cole. Forse è una delle canzoni più cantate di tutti. Come diceva Alberto. Quindi lo squadrinato è diventato ricco. Lo squadrinato è diventato ricco. Rettissimo. La luna è una scusa. È una scusa romantica, è una cosa messa in realtà. Lui gli dice, portami dove vuoi, amami, eccetera, eccetera. In altre parole, ti amo. In altre parole, ti amo. Adder Sinks, I love you. E in altre parole, noi amiamo quest'uomo, perché la notte di Natale, il 25 dicembre, quindi la notte, non di Natale, quella dopo, diciamo, quella fra Natale e Sant'Ostena, il 25 dicembre, alle 21.25, anche per ricordarci, ci sarà sul raggiungo stanotte a Milano. Cioè, questa volta Alberto ci porta alla scoperta di Milano, che è una città meravigliosa, quella che qui stiamo trasmettendo. Alberto, tu so che vivi a Roma, come me, quindi voglio chiederti, alla fine di questa esperienza, di questo lavoro. Che cosa vorresti portare a Roma, di quello che hai visto a Milano? Ma questa capacità di affrontare il presente con uno sguardo verso il futuro. Ma diciamo che ogni città in Italia ha un suo modo di vivere. Noi abbiamo fatto, l'anno scorso, Napoli, con tutte le sue tradizioni, la sua gioia di vita. Abbiamo fatto anche Firenze, Venezia. Quindi, voglio dire, ogni città ti rappresenta un lato diverso di questa nostra nazione, che ha un passato antichissimo e all'interno dei quali, appunto, tutte queste città rappresentano un modo diverso di concepire la vita. Te devo dire che Milano, e sarà un po' il leitmotiv del programma, se hai un sogno, un progetto, Milano ti aiuta a realizzarlo, certamente. È così. Senti, ti faccio sentire questo brano, vediamo se lo riconosco. Questo è un attradimento. Silenzio. Cuccia, San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là, ricordi il gioco... Vabbè, è sempre un brividito. Addirittura la prima edizione. Questa abbiamo scelto proprio la prima, è stato un colpo gobba, lo so, però senti. Allora, una curiosità, Alberto, nella sera tu hai incontrato anche due grandi campioni, a proposito di San Siro, due grandi campioni che hanno calcato il palcoscenico di San Siro, Ibrahimović e Zanetti. Perché non ti sei portato dietro il professor Vecchioni? Eh, che l'hai fatta sporca. È già stato difficile riuscire a organizzare un'intervista di quel tipo, quindi all'interno proprio di San Siro. E devo dire che è stata un'emozione fortissima. Tra l'altro, quello che mi ha colpito è anche l'assoluta disponibilità, disponibilità, umanità, gentilezza di tutti e due. E che rappresentano un po', a loro modo, le due anime calcistiche di Milano, anche se Ibrahimović è giocato anche nell'Inter e lo ricordano tanto. Però, voglio dire, è stato molto bello perché poi ti accorgi che, al di là di quello che vedi in televisione, sono delle figure assolutamente umane, anche nella sofferenza. E questa è una cosa da quale magari si pensa un po' meno, ma insomma ogni persona è un essere umano. Poi naturalmente nel programma ci sono anche altri ospiti e devo dire che ci hanno dipinto il resto, diciamo tutta Milano, con ognuno un suo modo di vederla. E devo dire che sono stati comunque molto abili per farci capire come Milano si presenti come una città dove corri, ma in realtà, lo vedrete, ci sono tante, tante sorprese. Sì, sì, non è soltanto... Alcuni luoghi comuni vengono fatti. Milano è una città silenziosa e segreta e bisogna conoscerla, certo. E ha giardini segreti. Ha giardini segreti, bisogna conoscerla. Ecco, vi devo dire che quando sono salito proprio lassù, sotto la Madonnina, ho assistito a un tramonto straordinario, queste sono le nostre immagini, perché ovviamente il programma comincia con un tramonto e poi finirà con un'alba. E di colpo ho avuto una visione di Milano che non conoscevo. Il punto più alto, vedi questa città che lentamente e progressivamente si illumina e vive sotto i tuoi occhi, è come un ribollire di vita. Naturalmente, vedrete, ci sono dei luoghi sotterranei di Milano, ma incontreremo Leonardo da Vinci. Ecco, questo è un posto straordinario. Il Naviglio grande, ovviamente, vi assicuro che farlo alle 4 e mezzo del mattino, perché abbiamo dovuto aspettare che in inverno è un po' diverso, ma la sua magia comunque è sempre molto forte. E poi, naturalmente, tanti altri luoghi, il teatro alla scala, e lì avete visto un'immagine in cui si vede il punto di vista di un cantante sul palcoscenico, perché di solito vediamo il contrario. Ed è veramente qualcosa di straordinario. Eccolo qui, voi state lì, di colpo, boom, si accende tutto. Quella è la visione che hai. Ecco, e si capisce anche quello che può provare un artista appena mette il piede sul palcoscenico. Tre giorni dopo Milano, scusate di interrompo, tre giorni dopo Milano, il 28 dicembre, ripetiamo Alberto, perché riparte Meraviglie. Quest'anno, non solo in Italia e in Europa, vi dico le città che vedremo nella prima puntata. Verona, Chartres, Mont-Saint-Michel e Lisbona. Guarda, Lisbona è la mia città del cuore. Mi dici una cosa bella di Lisbona? Sì, Lisbona. Io amo Lisbona. Beh, abbiamo fatto... Pessoa, subito. Ma anche le riprese su quei tram, che sono una poesia, è come una specie di penna che corre su un quadro che ti dipinge la città. Vedi i colori, vedi la gente, vedi quelle stradine strette. Ecco, lì era durante le riprese e vi devo dire che è stata anche abbastanza estremamente perché abbiamo dovuto andare su e giù tantissimo per fare queste riprese, riuscire a ogni... perché non ci si poteva fermare, i tram andavano e di conseguenza è stato come fare un Roma-Milano in tram perché sono durate tantissimo queste riprese e vi assicuro che è stata un'esperienza. Ma al di là di questo, questa è una battuta, abbiamo avuto la fortuna di avere il bel tempo e di farvi vedere la città con le sue luci e Duse Pontes che canterà... Insomma, c'è l'anima proprio di Lisbona che emerge attraverso tutte le sue caratteristiche, quelle che ci attirano quando vogliamo andare. Infatti, per la prima volta, Meraviglie esce dai confini nazionali. Va da Lisbona, Atene, Chartres, ci saranno anche i castelli, cioè le residenze di Ludwig di Baviera, Mont Saint-Michel, ovviamente, poi anche l'Andalusia. Insomma, abbiamo fatto un giro, tra l'altro senza dimenticare alcune perle italiane, tra le quali, io devo dire, più volte ho girato il David di Michelangelo, ma mai bene come questa volta. È uscito qualcosa in cui non pensi più sia un blocco di marmo di pietra, ma sembra vivente davvero. E noi ce lo godremo, il 28 dicembre sappiamo già cosa fare. Roberto, una cosa, prima ti ho regalato il libro di Serena Dallina. C'avevo già. Adesso mi faccio regalare da te il libro, sì, vabbè, mi faccio regalare il libro che sta apparendo alle mie spalle, che è l'ultimo della trilogia di Alberto, che è già venuto a presentarci agli altri due, questo è l'ultimo della trilogia di Nerone. Su Nerone, caro Alberto, questo signore vuole dire una cosa. Prego. No, no, voglio dire una cosa che sai benissimo, che Nerone cantava. Suonava e cantava. Un po' un rapper era, no? No. Era una specie di rapper. Serena dice che è un rapper. Prani di tragedie, la prima tragedia che cantò a Napoli. E poi aveva fatto un festival. Una Niobe. Era capace di fare dei concerti col pubblico che duravano non ore ma giorni. E il pubblico era obbligato. Questo libro non poteva andare. Se non incidevano, impassavano. Inventò un festival di Sanremo a Roma che si chiama Le Neronie. Qui diceva lui, ovviamente. Però Alberto ci ha lavorato per degli anni. È una cosa seria. Tu immediatamente me lo trasformi. No, no. Però, guardate, è stato per me una sorpresa incontrare quest'uomo che era pilota di Formula 1, tra virgolette, perché usava appunto le quadrighe, inventava dei drink, era un artista, un abilissimo negoziatore, non guerrafondaio. Quindi di colpo scopri un uomo che è diverso rispetto a quello che ti hanno sempre detto. E allora ecco, l'anima di questo libro trovo che questo libro sia molto attuale perché è un libro contro le fake news e contro la discriminazione. In che senso? Fake news perché a noi ci è arrivata l'immagine di Nerone come un tiranno, un omicida, poi soprattutto ha dato fuoco a Roma. Non è vero. Cantava quando c'era Roma in fiamma. Non è vero. Ha ucciso a calci la moglie. Non è vero. Perlomeno non si pensa perché non eravamo là. Ma insomma, oggi la maggior parte degli storici dicono che queste sono delle fake news messe in giro dai suoi nemici, che erano i senatori. Lui era un innovatore. 50 anni dopo una persona come Adriano ha fatto cose molto simili. Lui era avanti nei tempi. Però attenzione. Quando lui comincia a gestire il potere in un modo un po' diverso e fa paura a molti senatori incominciano a circolare queste fake news. Soprattutto quando c'è l'incendio. E lui è stato accusato di essere appunto responsabile già allora. E qual è stata la conseguenza di queste fake news? Che lui ha dovuto discolparsi di fronte al popolo che era la vera forza del suo potere e ha cominciato ad accusare che gli ultimi, quelli che veramente erano i più vulnerabili, cioè i cristiani. E quindi questo è il risultato di una fake news. Cioè le fake news sono pericolosissime. E tra l'altro c'è stata tramandata quest'idea di un nerone, diciamo, tiranno. In realtà lo era in parte perché... Ma non peggio di altri. Solo che non curava bene i rapporti con la stampa. I storici lo hanno poi dell'epoca. L'ho fatta anche, è bella questa. Bellissime interpretazioni. È molto bella. Perché Nelone, la prima parte della sua vita fu anche un grande imperatore. Politica esce, tutto quanto. Quando c'era ancora Seneca. Senti, Alberto, adesso non possiamo... Vogliamo farti una sorpresa, ti confesso. Perché nei giorni scorsi ho ricevuto una foto da Nichelino, non so se la possiamo vedere, del murale di 10 metri che avrà inaugurato il 22 dicembre dedicato a tuo papà, a Piero, al nostro caro Piero. Solo che poi ho scoperto il giorno dopo, ecco, possiamo mostrare, che in realtà la sorpresa l'avevi fatta tu a noi perché eri già stato lì e avevi già fatto la foto. Ecco, è una... Così, è un'immagine che è incredibile. Chissà se tuo padre avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe finito in un murale. Ringraziamo tutti, tutta Nichelino che ha veramente... Un bellissimo murale. A fare questa... È stata un'emozione perché chiaramente l'avevo vista, era circolata l'immagine e sono andato a vederlo proprio perché sono passato per Torino e la prima cosa che ho voluto fare è andare a vedere questo murale ed è impressionante perché è grandissimo ed è fatto benissimo. Io poi tra l'altro di capolavori ne ho visti tanti, ma accidenti, è un'intera casa e chiaramente di fronte, così vedi tuo padre all'improvviso, perché siamo arrivati all'improvviso, c'è stata una fortissima emozione. Però la cosa più bella è pensare che questo murale sia lui che continui a dialogare con le persone che stanno per la strada, le persone comuni, la gente che in fondo lo ha sempre ascoltato. Credo che questo sia il significato più bello di quel murale. Tu lo sai Alberto che hanno fornito i dati in questi giorni, il saluto postumo di tuo papà è stato il post più popolare su Facebook nel 2022 con quasi un milione di interazioni. Ecco, io non so se hai voglia di dircelo, però so che è stato assolutamente bello e semplice anche il suo congedo dal vivo, da voi. È stata una cosa veramente come tutti, forse ci auguriamo, no? Ce lo puoi raccontare? Diciamo che lui, chiaramente questo non l'ha mai saputo, ma è stato veramente, questo è questo impatto chiaramente, e fa molto piacere e vi posso assicurare che sono state veramente le ultime cose che ha detto. Le ultime cose che ha detto, diciamo, un discorso di una certa complessità, ecco, è stato questo, un messaggio a chi lo sentiva e aveva lui voglia di farlo, nessuno l'ha obbligato, ci ha chiamato e ha voluto diciamo dire questo a tutti. Era stato veramente l'ultima eredità, l'ultimo regalo che ha fatto. E poi è mancato il giorno dopo, quindi è stato l'ultimo regalo. Mi hai detto una cosa molto bella, non so se mi autorizzi, la dico perché è una cosa molto bella, mi hai detto, se n'è andato come quando uno finisce la cena, se finisci di mangiare, ti alzi da tavola. Lui ha lasciato la vita come avesse lasciato un gruppo di amici alla fine di una cena. A noi piace ricordarlo così. Alberto, grazie, ti ringraziamo per stasera e naturalmente ci rivediamo il 25 dicembre alle 21.25 con stanotte a Milano. Grazie Alberto. Vi aspetto tutti a Milano. Ciao, grazie. Grazie Alberto.